Una cosa è ammettere che c'è una responsabilità su un fenomeno come noi abbiamo fatto e una cosa è attaccare in maniera personale un componente di un'amministrazione, cosa che oggettivamente non è accettabile. E quindi io gli ho fatto senza polemica gli auguri di buon lavoro, ma gli ho detto sulle strade di Arezzo facci lavorare da noi. Questo è il messaggio del sindaco di Arezzo al governatore della regione toscana Enrico Rossi che ieri pomeriggio tramite una nota aveva attaccato l'assessore con delega la manutenzione e mobilità Gianfrancesco Gamurrini, definendo sciocchezze e fake news quanto da lui riportato, ossia il mancato avviso di allerta meteo da parte della regione. A tener banco ovviamente sono ancora i disagi dovuti al ghiaccio sulle strade. Sono rimasto piuttosto male, amareggiato dei toni che ha utilizzato il presidente della regione che si è scomodato per puntualizzare in maniera non corretta la delibera 395, ma soprattutto ha utilizzato dei toni assolutamente inurbani e inadatti fra istituzioni. Per quanto riguarda i disagi diffusi ovviamente c'è una responsabilità comunque dell'amministrazione che anche in assenza del codice di allerta probabilmente avrebbe potuto attivare la macchina comunale. Diciamo che siamo stati colti impreparati in quanto non ci è arrivato niente. Le scuse ai cittadini vanno d'obbligo perché a prescindere da tutto qualcosa in più forse potevamo fare. Ai tecnici comunali il compito di spiegare nel dettaglio quanto è successo giovedì mattina. Noi eravamo in tranquillità, codice verde, quindi non è previsto nessun fenomeno rilevante. Il bollettino di vigilanza indicava come fa sempre in caso di temperature sotto lo zero che potevano esserci locali gelati ma quando parliamo di locali gelati parliamo di fenomeni puntuali il sovrappasso, la rotatoria che chiaramente il bollettino regionale non può contemplare. In questo caso invece si sono verificate le non previste precipitazioni nevose la conseguenza è stata un ghiaccio diffuso ma non soltanto ad Arezzo perché sembra che il problema sia soltanto di Arezzo e non è così. Il problema è di molti comuni, è del Casentino, della Val Tiberina e di Arezzo. Una situazione come quella di ieri mattina doveva prevedere un codice giallo secondo voi, non verde? No, assolutamente un codice giallo, è una situazione diffusa in tutto il territorio. Noi abbiamo 400 chilometri di strade, coprirle tutte è improponibile se non si attiva una macchina molto più grossa di quella che può essere solamente quella comunale.